Carissime e carissimi, ho una proposta da farvi. Vivendo questa esperienza al Parlamento europeo, mi sono reso conto di come spesso l'Europa si allontana dalla vita quotidiana dei cittadini, una realtà poco conosciuta, su cui magari scaricare le responsabilità di tanti nostri problemi. Dalle mie parti si dice un po' il sacco delle botte. In realtà esiste anche un altro mondo. L'altra faccia della medaglia, che è quella dell'Europa delle opportunità e della speranza. Ecco, per confrontarci, per rispondere alle vostre domande, per ascoltare le vostre proposte, ho pensato, oltre agli strumenti tradizionali del sito internet, della newsletter e dei canali social, di proporvi anche un'altra possibilità, la possibilità di sentirci, di vederci, di parlarci direttamente tramite Skype. Ho iniziato qualche giorno fa dialogando con un gruppo di ragazzi e ragazze del corso di scienze internazionali e diplomatiche dell'Università di Gorizia. Mi hanno chiesto di una mia giornata tipo Bruxelles. Insieme abbiamo parlato di alcuni temi specifici, come ad esempio i cambiamenti climatici, il tema delle immigrazioni, le sfide dell'Europa, il ruolo dell'Iran nel Medio Oriente. E devo dire che è stato per me un momento molto bello, il tempo è passato velocemente. E ecco, se anche voi, e questa è la proposta, siete interessati ad una chiacchierata, ad un dialogo con l'Europa, potete scrivere al mio indirizzo mail per fissare un appuntamento via Skype. Spero vivamente di incontrarvi presto. Grazie.